Salve a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo video. Allora, volevo condividere con voi una tecnica. Qui ho fatto un eyeliner blu, ma come ben vedete ci sono dei glitter argento. Ora vi faccio vedere come l'ho fatto e lo faremo nero questa volta. Allora, ci sono questa qui nera e andiamo a fare una normale riga di eyeliner. Più o meno, dai. Ora, con una palettina andiamo a fissare il nero con l'ombretto nero. Per rendere il tutto più duraturo. Ora, prendiamo il glitter primer di NYX ne mettiamo un po' sul pennellino e lo andiamo a mettere sull'eyeliner. Perfetto. In questo caso, prendiamo altri glitter in colore random. Sono questi rossi qui. Prendiamo e li applichiamo sopra la colla. Io voglio che un po' le nero si vanno. ora mi piace molto più questo comunque e proviamo un'altra tecnica insieme cioè di fare la sfumatura sopra dell'occhio con il piegaciglia oppure farla a mano vediamo un po l'occhio con il piegaciglia oppure farla a mano vediamo un po' questo è con il piegaciglia che va comunque sempre sistemata a mio avviso e ora vediamo cosa esce facciamo lo stesso pennello direi che è già molto meglio mettiamo un po di chiaro qui e un po di chiaro qui non è male la tecnica del mascara ma secondo me fa solo perdere tempo ora metto del mascara del piegaciglia ora metto il mascara e vi faccio vedere l'effetto finale allora il rossetto che indosso è quello di essence questo qui lo 04 crazy it's me molto 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 bello questo è l'effetto con il mio fantastico lash princess e spero che il video vi sia piaciuto e vi aspetto qui al prossimo non vale la pena che io faccia la base perché comunque non vado a nessuna parte essendo così raffreddata non ha senso che io mi trucchi per poi struccarmi gli occhi ci metto un secondo ma alla base non ha proprio senso stressare ulteriormente la pelle qui è ancora più secca del solito quando comunque non devo uscire vi aspetto qui al prossimo video ciao 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 ciao